Berlusconi come state? Siamo stati al chiuso, non ho avuto il telefono fino a un secondo fa, però è ricordato in terapia intensiva perché non era stato risolto il problema che riguardava un'invenzione, però parla e questo non lo fa. In autunno scade il mandato del segretario Stolz del Verde.